buon sabato a tutti amici di youtube benvenuti sul mio canale ragazzi continuano i nomi per questo calcio mercato continuano tantissime notizie cdk si parla che forse va dall'atalanta forse l'atalanta però lo vuole in prestito vedremo quello che accadrà staremo a vedere anche la situazione punta la situazione al centro campo io ritengo che si stanno puntando solo stranieri di campionati medio bassi a parte luftus check che arriva dalla premier tutti gli altri sono giocatori comunque di prospettiva sono promesse poi magari vengono e sono i migliori più forti per carità di dio questo non lo posso sapere non lo metto in discussione ci mancherebbe ma rimane il discorso ho visto il video dello zoccolo duro che dice se poi le cose andranno male si accaniranno tutti contro pioli caro luca io non la penso come te io penso che pioli un allenatore mediocre è un allenatore che anche con qualche campione in più comunque le scelte le letture delle partite le sbaglia e l'ha dimostrato l'anno passato ragazzi ci sono i fatti ci sono i numeri vai a giocarti una champions league in semifinale contro uno dei centrocampi più forti a cinque tu me ne vai mi vai giocare a due a ritorno in una partita dove il secondo tempo dovevi dare il tutto per tutto piuttosto ne prendi tre con l'inter ma devi dare il tutto per tutto vai a difenderti vai a cercare di portare a casa lo 0 a 0 poi è perso lo stesso 1 a 0 quindi sono un po figure brutte quelle che ha fatto pioli e altre letture come turn over sbagliati guarda con la cremonese vedi con la selenitana vedi con l'empoli con lo spezia ci hanno preso pallonate il toro li ha li ha asfaltati eccetera eccetera quindi io ritengo che moncata deve fare una squadra non tanto adatta pioli ma tanto adatta anche in un futuro perché io penso che pioli al milano rimanga tantissimo poi saranno i risultati a dirlo sarà il campo a parlare però pioli sicuramente complice pioli gli sta bene tutto perché come vi ho detto in passato pioli se va via dal milan va a allenare l'udinese la fiorentina la selenitana il bologna tanto di rispetto a queste società ci mancherebbe non è un'offesa alle società ma è per far capire il livello di pioli ormai pioli rimane quindi mi devo mettere l'anima in pace partiremo con lui ma io non sono assolutamente d'accordo per me al momento che tu fai fuori massare maldini dove io non l'ho trovato giusto ma la società è padrona di fare le sue scelte poi però poi però mi devi anche cambiare l'allenatore se fai i cambiamenti devi fare a 360 non li fai come vuoi tu però ragazzi questa è stata la sua scelta adesso vedremo i prossimi colpi di mercato mi auguro non morata preferisco uno scamacca sono obiettivo poi qualcuno mi può dire di no ma non bisogna guardare i nomi ma bisogna vedere al momento l'età la condizione come girano cosa ti può dare uno scamacca cosa ti può dare unicardi cosa ti può dare un morata questo sarà bravo moncada magari a valutarlo e poi apro e chiudo parentesi cdk è vero che è stato preso da maldini ma moncada era quello che faceva il talent scout e dava i nomi a maldini quindi mancada è anche complice di cdk non ve lo dimenticate perché c'è qualcuno che continua a dare le colpe a maldini quando non le ha poi ho sentito tante critiche che ora finalmente si sta facendo un bel calciomercato perché senza maldini le cose cambiano senza maldini i maldini l'anno scorso gli hanno dato 10 euro e volevate lo squadrone quest'anno stanno buttando tanti soldi sembra che vogliono spendere io ripeto luftus check per me non ha il valore del mercato che è stato acquistato poi staremo a vedere sicuramente un giocatore importante buono ma noi per fare il salto di qualità dobbiamo portare pulisic milinkovic savic kamada sono questi i giocatori che voglio vedere al milanello caro moncada furlani vedi di svegliarti non voglio scuse perché tanto ogni anno facciamo rivoluzioni quest'anno un'altra rivoluzione ogni anno si cambia tutto anziché tenere le fondamenta e cambiare intorno solo gli arredamenti noi facciamo al contrario noi teniamo gli arredamenti uguali ma cambiamo le fondamenta praticamente facciamo i traslochi e questo non va assolutamente bene caro moncada furlani sull'americano mangia po corn non mi esprimo più ripeto io non ho non ho presidenti un presidente avevo buonanima e altri non ne ho più ragazzi per oggi è tutto ci vediamo domani per nuove news o stasera vediamo un po quello che accadrà un abbraccio da gerry mi raccomando iscrivetevi al mio canale clic 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 lasciate like e commenti sotto i video sempre con l'educazione e attivate la campanellina per non perdere nessuna mia news ciao a tutti ragazzi e sempre forza vecchio cuore rosso nero